Niente, però, niente, dai, leggeriamo tutta la squadra perché sono stati tutti in grado di davantare a casa la vittoria, è molto importante. Ecco, secondo te qual è stata la chiave di scuola in questa partita? Diciamo, toccare il risultato a Cicchiumuti nel primo tempo, insomma, andare, niente, tra la posa dal primo e dal secondo in vantaggio, abuso direttamente, poi niente, diciamo che soffriamo sempre fino all'ultimo, non ci riesce mai, c'è fine a partire tranquilli, però diciamo che oggi anche l'Albison non ci ha aiutato, però adesso questa partita era troppo importante, questa vale 6 punti invece che 3 secondo me. Poi una grande sofferenza però da qui viene fuori, si vede la squadra, il gruppo, la grande grinta, la voglia di portare a casa in tutti i modi questo risultato. Diciamo che sì, dai, da prima di Natale che insomma stiamo dimostrando di essere un gruppo vero, con unione di intenti, perché tutti vogliamo lo stesso obiettivo e lavoriamo tutti i giorni per quello.